Faccio due passi... Tum! Tum! De corsa l'infartita secca la botta sul cuore sono arrivato tipo fatto 200 punti così razionando la gamba un braccio destro così, morto no, cimino, aspetta morto pie la canna tipo così un dolore assurdo mi appoggia la canna così come lo faccio? C'è un cazzo con la canna e te la ripasso un'altra così con dolore al cuore la gira a me che cazzo niente se non ho vissuto, ho ancora canti stai poi vabbè però lì non ho far tardi se sei riparato il dolore qui c'è c'è un amico che c'ha avuto un amico pescatore un amico pescatore no no, sulla cosa al Chiarone, ho sentito male al Chiarone che siccome il padre e un zio sono morti che potrebbero fare il tuo avviso ha chiamato il 118 sei venuto a prendere l'ambulanza sulla canna del Chiarone gli hanno pulito l'attrezzatura si si, hanno chiuso tutto quanto gli hanno chiusato le gambe i coronari attappati hanno fatto l'angioplastica manco l'hanno portato no, no Orbitello l'hanno portato anche il sito è tornato a provare la censura in giù no allora visto che sei passato l'attrezzatura questa non so quant'è la sanno ragazzi vado in Corsica a Stefano vado in Corsica ora che ho trovato l'altro giorno quando arriviamo sulla spiaggia non è scritto al forum ma ci vediamo ascolta arrivo sulla spiaggia chiuso un'accia io le butto tutto a destra io le butto tutto a destra stavano 200 metri c'è tutta la parte una bella razza non c'è una foto porcozio era così 80 cm da una parte quant'è? che te hai riportato? vabbè a là 80 cm vabbè qui ho questa razza questo ne avevo già presa altri un po' così un gattuccio da me questa è una voglia ammazzata cerco di speggiarla sulla mano allora per me ho usato il raffio mi sono avvicinato ho preso il filo e ho fidato questa è arrivata nonna anomala o no e si attiva sull'onda a fase di a due metri PUM che cazzo mi sento un dolore ma io mi ha dato una botta l'ha sceso inizia a camminare ho fatto ma che mi ha bucato stivano entro da l'acqua alla fine cammino il sangue che scende chiamo l'ambulanza arriva l'ambulanza mi prende mi porta l'arrivo l'america e gli fa ma che ti ha fissiato? il francese cazzo che faccia il disegno pesce piatti si chiamano ah la re eh ma che scende che cazzo ci mettono? pieno il tubo le comando vai mi fa chiedere tipo 50 e mi riportano sulla spiaggia l'ambulanza mi hanno riportato sulla spiaggia sceglie che ho scelto i pezzettotti e mi ha chiesto i soldi perché ho fatto il sestate e mi ha chiesto qualche volta mi diceva costa la pesca in Francia mi riportano la scena ma non c'è che mette mi ha messo la crema ma non c'è che mette mi ha messo la crema mi ha messo la crema mi ha messo la crema e e mi ha fatto il buco che mi è rimasto? e qual'è la vera? la ricenza qual'è da operare? mi ha fatto il buco così largo come è che esceva il sangue? vedete un sgaro così che piove oh ma non riesce mai il sangue? no no non riesce mai il vino ma non riesce mai il vino ma non riesce mai il vino ma lui non c'è là il sangue ma non riesce mai il vino dentro infatti lui c'è di accorciare grazie era così porco il suo c'è una foto non hai gliccio ma ti vuole il pezzo c'è tutto che ti aveva fatto il buco quando c'avevi le braccia lunghe così quando c'avevi i 12 anni? bravo ma stava fallendo una razza di 8 mili papi ne ha preso una un tavolino patruzzino quella era grossa no? quella che ho preso io la mia così è una pezzetta insomma eeeh dopo che mi ho appuncichato queste razze avendo l'ho troccato se ho fatto una foto l'ho selezionato a pezzi ho fatto tipo una datolata della razza ho preso tipo un secchio di coltello e c'erano i cattivi l'ho tipo devastato gli ho fatto una datolata della razza così scopi una mattina sul forum scopi una mattina sul forum scopi una mattina scopi una mattina alla fine l'ho buttata senza ali non fa la pena che fame guarda